Buongiorno Giamine, buon sabato, benvenuti in questo nuovo vlog allora, iniziamo subito subito il vlog con una bella ricettina super sana ma buonissima sapete che io adoro la cheesecake, la faccio spessissimo e ho trovato una ricettina di una cheesecake light e voglio assolutamente provare a farla magari le farò anche in monoporzione così ce le possiamo mangiare sia per colazione oppure per merenda ho preparato anche i bicchierini poi vedo insomma quanto me ne verrà per prima cosa vado a mettere un cucchiaio di chocolate slim shake di Fitvia che è appunto la loro polvere proteica per fare gli shakes e anche per fare tantissime ricette ci faccio anche i pancake e un sacco di altre cose quindi andiamo a mettere un cucchiaio di questo anzi un misurino perché c'è il misurino all'interno eccolo lì quindi vado a mettere un misurino all'interno di questo vasetto di yogurt che sono 200 grammi allora forse ce ne metto due di misurini meglio così uno per me e uno per Cesar mischio bene poi nella base del bicchiere vado a mettere un biscotto di questi qui al cocco questi sono buonissimi e hanno solo 20 calorie ognuno quindi magari ne metto uno alla base poi metto un po' di composto al centro metto anche un paio di lamponi e qualche scaglietta di cocco per dare croccantezza poi metterò sopra un altro strato col biscottino un altro po' di yogurt con la polvere proteica e sopra decorerò ancora con lamponi e cocco e ta-da! ecco qui il risultato le nostre mini cheesecake allo yogurt, cocco, lampone, cioccolato e ci ho messo anche una fogliolina di menta guardate che carina mi piace un sacco questa cosa che si vede lo strato di lamponi all'interno del bicchiere ecco qui pochissime calorie buonissimi questi sono i biscottini che ho usato questa è la polvere al cioccolato che ho usato e ta-da! non vedo l'ora di assaggiare allora Gemmine, vi avevo detto che l'avremmo provato insieme quindi eccoci qui oggi proviamo insieme il nuovo Silkepil 9 Flex di Brown io l'ho già aperto perché non ho potuto resistere e volevo vedere com'era ed è bellissimo intanto guardate che meraviglia la pochettina nella quale arriva è tipo di una pelle vellutata rosa chiaro veramente carinissima e si apre così anche proprio il Silkepil in sé è veramente bellissimo guardate un po' ce l'ho solo aperto senza neanche togliere la carta guardate che meraviglia è proprio bello cioè anche esteticamente è proprio bellissimo ha tutti questi dettagli dorati bianco e poi qui dietro c'è la presa diciamo in silicone per non farlo scivolare è un rosa molto molto chiaro simile alla pochette veramente bellissimo quindi c'è questo che è proprio il Silkepil in sé con quest'altro pezzo che si mette sopra poi c'è questo per i massaggi che si attacca con quest'altro pezzo e poi qui ci sono invece le lamette quindi questo è quello con le pinzettine però questo funziona anche da rasoio quindi c'è anche le lamette allora l'ho collegato l'ho messo un po' a caricare la cosa bella è che si può usare anche sotto la doccia molto bella questa cosa che lo si può usare anche nella doccia quindi è completamente waterproof e nel frattempo che si carica stavo vedendo anche qui le varie testine allora per l'epilazione c'è questo qui normale che dice massage roller cap for gentle epilation e poi guardate com'è tutto che si muove quindi prende proprio bene bene tutti i peli e accompagna proprio le curve della pelle poi c'è quest'altro cosino che si mette per fare un'epilazione più rapida infatti è il skin contact cap quindi va più a contatto con la pelle e appunto ci si può depilare più velocemente e poi c'è anche questo che io pensavo che questo silk peel non fosse adatto per il viso invece c'è questo altro cosino che si aggiunge per le zone sensibili e anche il viso quindi si può utilizzare anche qui vedete sul viso quindi è molto utile perché si può usare anche sul viso poi c'è in ogni confezione si può decidere c'è uno di questi tre e nella mia c'era questo che è per i massaggi appunto e poi c'è anche questo qui con le setole azzurre e bianche per un'esfoliazione profonda e invece c'è quest'altro con le setole grigie e bianche per un'esfoliazione leggera e poi infine funziona anche da rasoio quindi c'è il rasoio normale che è questo qui e c'è questo coperchietto di plastica trasparente che si può aggiungere se volete un pelo da 3 mm allora ho fatto la doccia e l'ho provato su una gamba non vi spaventate questa gamba non l'ho ancora fatta potete vedere i peli che mi sono fatta crescere e invece questa gamba l'ho fatta e come potete notare non ci sono più peli è tutta liscissima allora mi sono leggermente arrossata però sta già scomparendo e si fa male però devo dire che il fatto di farlo sotto la doccia o comunque nella vasca mentre vi fate il bagno e secondo me fa meno male quando la pelle è già bagnata e c'è l'acqua che ci scorre sopra quindi mi ha fatto molto meno male di quell'altro silk peel che io utilizzavo che non andava sotto l'acqua quindi questa cosa mi è piaciuta molto e poi la cosa bella è che siccome appunto è così snodato praticamente si accompagna da solo non c'è neanche bisogno che spingete quindi vi irritate di meno quindi ecco il risultato bella liscia e invece di qua peli 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 adesso dovrò farlo anche da questa parte e niente adesso lo proviamo anche sul braccio così vedete proprio nell'immediatezza come funziona ok spero si vedano i peli vi assicuro che ce ne sono proprio tanti accendo oddio l'ho finita e vado vorrei farvi vedere come in una sola passata non so se si vede bene dalla telecamera ma in una sola passata ce ne ha tolti tantissimi quindi già non fa per niente male ovviamente è un pochettino assi però niente di che guardate questa parte è già completamente senza peli spero si veda si è un po' bagnato il braccio perché adesso l'ho usato sotto la doccia quindi era un po' bagnato e niente quindi adesso mi faccio anche le braccia e mi faccio anche le ascelle e e niente quindi mi è piaciuto molto non ne farò più a meno allora io stavo provando anche la parte del rasoio con la testina rasoio perché avevo alcuni peli piccoli piccoli sottili che con la parte del silk peel insomma con le pinzette non mi aveva tolto in più anche qui sulla coscia diciamo dal ginocchio in su io ho dei peli molto biondi molto sottili e quindi con il silk peel proprio non si prendono perché sono proprio sottilissimi e biondini e quindi non li avevo tolti e funziona benissimo questo è super veloce toglie veramente in una sola passata e mi piace anche tantissimo questo soprattutto per le zone magari tipo nelle ascelle che sì in teoria potete usare il silk peel ma se non siete molto coraggiose insomma io devo dire che utilizzo sempre il rasoio perché nelle ascelle e anche all'inguine mi fa malissimo il silk peel proprio non ci riesco e riesco solamente sulle braccia e sui polpacci diciamo sulle gambe e questo secondo me è utilissimo per le zone più delicate perché cioè è proprio delicatissimo non ne rita per niente quando invece con il rasoio per esempio tante volte che lo uso all'inguine mi arrosso tutta e invece con questo cioè con questo no perché è veramente molto molto delicato però appunto toglie i piedi benissimo quindi mi piace davvero tanto anche questa parte del rasoio ok ho finito la mia depilazione ho anche pulito tutto quanto con la spazzolina che veniva inclusa e ho richiuso tutto rimesso tutto a posto allora io ve lo consiglio mi è piaciuto molto tra l'altro un'altra cosa che mi è piaciuta è che si è caricato completo in neanche mezz'ora e quindi poi magari dopo vi faccio sapere quante volte lo utilizzerò senza ricaricarlo di nuovo però appunto adesso l'ho utilizzato parecchio perché ho usato sia le pinzette sia la parte del rasoio ho fatto anche inguine ascelle quindi insomma l'ho usato per un bel po' di tempo e niente poi vi faccio magari sapere su instagram quanto tempo mi è durato in carica e niente se avete qualche domanda lasciatemela qui nei commenti così vi rispondo allora Gemmine oggi per pranzo voglio fare una bella ricettina messicana che adoro ma che non avevo mai fatto in casa cioè il cheso fundido con cioriso allora vi spiego brevemente cheso fundido significa formaggio sciolto è praticamente la fonduta messicana che si mangia con all'interno il cioriso che è una loro salsiccia tutta piccante e speziata diciamo ovviamente in Italia il cioriso non si trova quindi io che cosa faccio avevo un paio di salsicce surgelate del nostro macellaio di fiducia le ho tolto la pellicina adesso vi faccio vedere questa era la pellicina gliel'ho levata e le ho spappolate in padella ecco perché il il cioriso appunto che si mette all'interno di questo formaggio fuso è tutto spezzettato tutto sbriciolato quindi io lo sto spezzettando in padella lo cuocio e alla fine diventerà una specie di macinato alla fine però sa di salsiccia quindi è più saporito e per renderlo piccante ci metto un po' della salsina che avevo fatto con i peperoncini messicani e il pomodoro è inventato alla fine io lo faccio così quindi lo cuocio ci metto la salsina messicana poi vi faccio vedere come continuiamo ecco qui ho aggiunto la salsina piccante e questo è il risultato adesso sto continuando a spezzettare la salsiccia fino a quando non diventa proprio tutta piccolina e poi metterò un goccino d'olio sul fondo di questi piatti che sono proprio quelli apposta messicani che vanno in forno metto un goccino d'olio poi dopo metto un po' di formaggio io utilizzerò una mozzarella tipo pizzottella quella asciutta fatta tutta a pezzettini piccoli piccoli quindi metto un piccolo strato poi metto uno strato di chorizo e poi sopra vado a mettere un altro bello strato di formaggio e lo metto qualche minuto nel forno con quella funzione tipo broil se non ce l'avete mettete il forno normale statico e mettete le ciotole nella parte più sopra qui in modo che si sbruciacchi bene e niente quindi questo è il piatto adesso un secondino poi qui come vedete sto facendo anche le tortillas per accompagnare e poi farò anche i fagioli tanto per cambiare ecco fatto allora ne volevo fare uno a testa però assemblando il piattino mi sembra che è un po' troppo quindi ne ho fatto solo uno ho messo tutto quanto il chorizo homemade all'interno di questo piatto un po' di formaggio sotto chorizo poi altro formaggio sopra e adesso il forno si sta riscaldando con la funzione broil così lo broiliamo e lo sciogliamo per bene nel frattempo riscaldo i fagioli magari uso la stessa padellina così c'è anche un po' di piccante e in quell'altra padella invece cuocio le tortillas non so se riuscite a vedere attraverso il forno ma mamma mia mi sembra proprio di stare al ristorante quello là a Guadalacara lo stronco si guardate come scrocchiola il formaggio non so nemmeno come dirlo ma bolle ecco so bolle e si sbruciacchia che buono nel frattempo cesare è intervenuto a cuocere le tortillas così vengono più buone qui ci sono i fagioli che sono venuti tipo fagioli rancero samore perché sono tutti inzuppati nel nel sughetto che era rimasto della salsiccia wow dai sbrigati che è quasi pronto e c'ho fame madonna che bontà perché non l'abbiamo fatto più spesso questo perché è ciccioso ok ok situazione delicata allora dimostro questo sarebbe un taco di cheso fondito cioè potremmo chiamarlo una chesadilla anche se il percorso per arrivare al risultato finale è diverso diciamo che il prodotto finito è molto simile guardate qua dove arriva oddio dovrebbe essere un taco di cheso fondito che però ripeto potrebbe essere anche chiamato chesadilla secondo me guarda che meraviglia amore te lo preparo allora guarda ti metto un po' di cheso fondito poi un po' di fricolitos fagioli così un po' di salsita poi sì un po' di salsita un pezzettino che era quel rumore sta crollando con la cucina un pezzettino di avocado un po' di salsa piccante e se magna mi piace? mangia mangia assaggio in diretta dai no aspetta devo finire il mio tiktok ok prima vai lo assaggio eh mamma mia amore non puoi capire è uguale? è troppo brava brava vabbè mangio che io voglio proprio mangiarlo sono felicissima perché è arrivata la degusta box di maggio da quando è iniziata la quarantena so che comunque adesso si può uscire però meglio cercare di evitare la degusta box è diventata veramente una cosa super aspettata ogni mese non vedo l'ora che arrivi e questa qui di maggio è a tema picnic quindi in teoria dovrei trovare anche qualcosina per organizzare qualche bel picnic insieme a Cesar qui in giardino quindi andiamo subito ad aprirla allora le prime cose che vedo sono questi snack di lenticchie che allora la marca è diversa e la forma anche però avevo già trovato nella degusta box una volta degli snack di lenticchie simili e mi erano piaciuti tantissimo veramente tanto tanto ce n'era uno di lenticchie e uno di ceci se non sbaglio erano veramente buonissimi quindi sono contenta di averli ritrovati seppur appunto diversi questi sono della marca snacks non vedo l'ora di assaggiare anche questi li mettiamo qua già questo primo prodotto è perfetto per un picnic ok un'altra cosa che vedo perfetta per i picnic delle patatine lace queste sono mediterranee 100% olio di oliva classiche queste anche perfette anche per un piccolo aperitivo in giardino anche queste le olive le mediterranee sacla greche smaccellate con peperoncino queste sono buonissime anche queste perfette per qualche aperitivo o picnic poi allora qui che cosa c'è mi sembra sia una birra infatti è una birra 8.6 sì birra 8.6 non l'avevo mai sentito questo marchio però è carino con quel lupo anche sul tappo guardate che carino non so se ne sarà felicissimo sicuramente togliamo la plastica allora poi altre bevande c'è questo succo skipper zueg arancia carota e limone buono questo è uno dei miei succhi preferiti dovrebbe essere l'ace no? arancia carota e limone buonissimo poi zero zuccheri aggiunti 19 calorie 79 kilo per 100 ml ok buono questo mi piace adoro quei tipi di succhi poi allora vediamo qui dentro che altro c'è apriamo ok ketchup bio con pomodori italiani premium della marca Debeley questa marca fa delle salse molto buone spesso ne trovo alcune all'interno della degustabox quindi questo ketchup sicuramente sarà buonissimo ok quindi lo useremo sicuramente poi qui vedo due lattine di pepsi max lime gusto lime senza zucchero anche queste sembrano molto buone poi due quindi perfette per me e per Cesar per un picnic oh mi è caduto il foglio vabbè poi allora questo mi interessa molto pick up ma questo è diverso questo non l'ho mai provato è il pick up black and white normalmente il biscotto è bianco e dentro c'è il cioccolato normale invece questo da quello che vedo c'ha il biscotto al cioccolato e il cioccolato bianco al centro buoni questi finiranno subito già entro oggi poi qui che cosa c'è una marmellatina della Hero fragole di stagione buona poi allora Ubena questa marca spesso anche si trova nella degustabox e fa spezie questo è il finocchio macinato buono perché non ce l'avevo ok poi qua ho trovato oh zuppa di miso istantanea di di bio questa mi piace questa non vedo l'ora di farla dobbiamo organizzare assolutamente una notte di cena asiatica magari facci ghiozza con la zuppa di miso oppure una bella tempura mo vediamo yeah sono felice per questo wow ok questi se non li avete mai provati si trovano da poco in Italia da pochi anni sono i biscotti quelli tipo speculos e sono ragazzi spettacolari io li adoro li ho provati per la prima volta a Londra ma sono molto famosi anche in Olanda e anche in Messico si trovavano e qui in Italia quando sono tornata dal Messico ho visto che avevano iniziato a metterli nei supermercati e sono molto molto buoni ve li straconsiglio sono veramente buonissimi tutti speziati con la cannella veramente buoni poi allora questo ho letto nel foglietto che è il prodotto del mese che è il preparato per risotto alla milanese proprio della cucina barilla con pistilli di zafferano non so che cosa ci sia dentro apriamolo preparato in che senso c'è il riso e poi a parte lo zafferano vediamo un po' esatto allora c'è una bustina con il riso e poi c'è un'altra bustina preparato e disidratato sarà tipo condimento milanese forse lo zafferano con magari un po' di dado comunque viene già tutto tutto pronto ok questo lo proveremo sicuramente io adoro il risotto alla milanese quindi un giorno di questi lo facciamo e poi qui ultimo prodotto oddio che cos'è le conserve della nonna tubotti ah ok penso che siano tipo delle fette biscottate ok sì due fette biscottate un tubetto di crema alla nocciola ah le fette biscottate sono quelle della Monviso quindi sono quelle che mi piacciono biscotti della salute sono buonissime queste e poi c'è questo tubetto che dovrebbe essere appunto crema alla nocciola sarà tipo sì crema alla nocciola non sarà forse al cioccolato o sì sì cacao e nocciole quindi è una specie di nutella sembra davvero buono carina questa questa idea anche per i bambini così piccolino da portare in giro ok poi che cosa c'è qui un euro di sconto sulle marmellate scopri tutti i nostri kit della barilla quelli dei risotti ok quindi questo è tutto il contenuto della degusta box di questo mese se non l'avete mai provata la degusta box è una box appunto di cibo prevalentemente sono cose nuove che sono arrivate da poco in Italia oppure sono sapori di cose che già esistevano ma sapori nuovi o cose che non si trovano in tutti i supermercati quindi è molto carino e ovviamente il prezzo complessivo dei prodotti è superiore al prezzo con il quale lo avete comprando la box e se non l'avete mai provata ho anche un codice sconto che vi lascio scritto qui che vi dà la vostra prima box a mi pare solo 9,99 euro anziché 14,99 comunque vi lascio anche il link giù nell'info box con anche il codice scritto giù e niente è molto carina arrivo ogni mese poi potete disdire insomma quando volete però è davvero molto carina io mi ci sto trovando benissimo già è da da diversi mesi che che la prendo e mi piace molto mi dà comunque delle cose che magari non in tutti i supermercati trovo quindi mi piace molto mi piace molto e niente adesso metto tutte queste cosine a posto in dispensa buonasera gemine io inizio sempre le clip dicendo che non sono nuda perché ho tutti i top così perché sono uscita a camminare intorno a casa e per abbronzarmi ho messo un altro toppino così senza niente quindi non sono nuda però adesso appunto siamo rientrati e mi picchio non so perché mi è venuta la brillantissima idea di preparare per cena la pizza Chicago e siccome mi pare che una volta ve l'avevamo nominata e tanti di voi erano stati interessati a questa pizza particolare allora ho deciso di farvela vedere nel vlog e non l'ho mai fatta quindi non so come verrà però in pratica è una pizza alta ma è cioè una pizza ripiena non è alta nel senso tipo focaccia ma va fatta in una teglia alta e come una crostata ripiena va messo l'impasto alto nel bordo sotto nell'altro bordo dentro in realtà di solito è piena di affettati noi all'interno metteremo solo mozzarella poi sopra si mette un altro strato di impasto quindi si chiude e sopra il secondo strato di impasto si mette il pomodoro e noi la vogliamo fare anche stile tipo amatriciana quindi sopra poi dopo ci andrò a mettere anche delle fettine di bacon so che serve il guanciale però noi ci mettiamo il bacon e un po' di pecorino o magari un po' di parmigiano così la vogliamo fare tipo margherita ma con bacon diciamo quindi la faremo così e l'impasto è un po' particolare va fatto di evitare solo un'ora e oltre alla farina normale ha all'interno anche un po' di farina per polenta io per fortuna ce l'avevo tra l'altro non l'ho mai usata perché non mi va mai di fare la polenta che ci vuole troppo per cuosersi quindi adesso stavo iniziando a mettere gli ingredienti all'interno della planetaria la ricetta ovviamente è una ricetta americana quindi è tutto fatto con le cup ho messo 3 cups di farina normale e poi 3 quarti di cup di farina di polenta che equivalgono a 60 grammi circa e quindi l'ho appena messi dentro e adesso andrò ad aggiungere gli altri ingredienti ora vi faccio vedere allora poi ho aggiunto un cucchiaino di sale un altro cucchiaino di lievito istantaneo quello dry yes della Lidl che avevo messo anche quando ho fatto i panini per gli hamburger se vi ricordate poi ho messo un cucchiaio invece non cucchiaino di olio d'oliva 50 grammi di olio di semi 15 grammi di burro fuso poi ho iniziato ad impastare e alla fine ho aggiunto un'altra cup di acqua tiepida una volta che si è formato l'impasto quindi una bella pallina bella morbida e ho messo un pochino di olio nella stessa ciotola della planetaria dove avevo impastato ci ho rimesso l'impasto dentro e l'ho messo di evitare per un'ora nel forno con la luce accesa sono all'incirca 30 gradi poi ha lievitato un'oretta adesso e ora andiamo ad aprire ok avete visto ho diviso l'impasto in due una parte leggermente più grande che sarà la parte sotto e l'ho stesa e l'altra parte insomma è un pochino più piccola adesso andrò a stendere anche quella ora ho steso la prima parte e vado a metterla nella teglia ok questa è la teglia quella cerniera da più o meno 21-22 cm l'ho imburrata adesso metto anche un po' di farina e poi ci mettiamo l'impasto all'interno un po' di farina un po' di farina un po' di farina un po' di farina ecco qui la pizza chicago pronta l'ho cotta per 25 minuti a 200 gradi e sopra dopo quando mancavano più o meno 5 minuti ci ho aggiunto anche un paio di fettine di bacon così è diventato tipo amatriciana style amore come piace a te amatriciana style e poi qui ho fatto proprio un tavolino romantico italiano con i fiorellini il vino rosso calice e candelina e niente adesso aspettiamo un attimino che si raffreddi un minimo perché sennò poi tutta la mozzarella sciolta si rovina tutto quando lo taglio e qui ho fatto anche qualche pizzettina che in realtà sono abbastanza croccanti non sono molto morbide ecco questo è un po' sì perché ovviamente questo è un impasto apposta per la pizza chicago e quindi è un po' croccante diciamo è tipo pasta frolla alla fine però con il lievito quindi insomma sono venuti un po' dure però vabbè ho fatto qualche pizzettina con sale alle fragole che ho preso a Venezia rose e fragole e poi invece queste con rosmarino e sale rosa dell'Himalaya quindi più semplice e e niente tra un po' la assaggiamo sembra buona comunque abbiamo tolto la cerniera nel bordo guardate che bella vabbè mettila con tutto il ferro dai sul piatto wow bellissima poi è morbida qui e viva sembra buona mi sento a New York ti ricordi quando l'abbiamo mangiata anche se si chiama Chicago vabbè noi l'abbiamo mangiata a New York momento importante wow croccante io sto facendo stavo facendo anche la storia ultimamente in questi giorni sto facendo le storie ma non le metto ho registrato un sacco di storie ma non le metto allora sei pronto? aspetta un attimo sei pronto? aspetta rimetto il bacon sopra che se non è andato giù vai? bisognava farla riposare ancora perché si deve stabilizzare un altro po' si deve stabilizzare però a noi ci piace con tutta questa mozzarella sciolta guarda ho preso una fetta troppo piccola dobbiamo mangiarla tutta da soli allora atmosfera romantica noi abbiamo già assaggiato com'è amore buona mi ricorda proprio quel ristorantino a New York dove l'abbiamo mangiata perché era tutto buio così romantico con le candeline sul tavolo poi c'è arrivata questa bella pizza vero? stiamo rivivendo sì ci ha messo un sacco pure io ci ho messo tanto a farla stiamo rivivendo quella sera buongiorno Gemmine buon lunedì allora oggi è il primo giorno che finalmente si può uscire senza l'autocertificazione ovviamente con mascherina e tutto quanto quindi io e Cesar stamattina abbiamo deciso di andare indovinate dove ha deciso lui in realtà Leroy Marlene perché vogliamo ancora finire di sistemare bene il balconcino quindi andiamo a a fare una come si dice un sopralluogo a vedere un po' di cosine poi ci servono delle lampadine per le luci di qua fuori in giardino che si sono fulminate quindi andiamo a fare un giretto da Leroy Marlene poi probabilmente dopo andremo anche a lasciare un po' dei miei vestiti invernali a casa di mia mamma e se riesco recupero anche qualche altro vestitino estivo da mettere qui poi volevo ringraziarvi tantissimo perché una di voi adesso non ricordo il nome una di voi mi ha consigliato un gancio di questi qua per l'armadio per abbassare il bastone che si acquista su ebay in realtà costa parecchio perché mi sa che costa tipo 30 euro e altri 30 euro a spedizione o 15 e 15 non mi ricordo quindi in realtà costa parecchio però così risolverei proprio al 100% il problema dell'armadio e quindi mo ci faccio un pensierino e grazie mille e vediamo insomma se riesco a sistemare decentemente l'armadio pronti mascherine e lampadine da cambiare andiamo ok fuori c'era un po' di fila ci hanno pure fatto mettere questi guanti busta e adesso stiamo vedendo le anche a me infatti ho dato la lampadina perché ho paura di farla cadere perché è scivolosissimo questo guantino allora adesso le le cerchiamo comunque hanno tipo chiuso tutto di là non si può girare direttamente per andare da quella parte devi fare tutto il giro di qua passare lì per le piante e poi fare il giro e andare a pagare quindi per i barbie che dobbiamo passare per le piantine prima ma che belle cose che hanno messo dalle roma marlene anche questi cuscini questo specchio ciao noi vedere le piantine guardate queste piantine di fragole ognuna ha i fiorellini di un colore diverso che belle che sono comunque hanno messo veramente tante piante guarda che belle guarda questi che carini che belle margheritone guarda queste rose che belle con il legnetto per farle tipo rampicanti che bello sì per fortuna le piante queste qua aromatiche non ci sono morte quindi ce l'abbiamo volevamo cercare un mobiletto che hanno visto sul sito vediamo se lo troviamo ve lo faccio vedere ok siamo tornati alle lampadine se se le sta prendendo comunque l'anno scorso abbiamo comprato una lampadina tipo questa esattamente quella lì su con scritto love e adesso l'hanno fatta anche con la scritta home e sono bellissime noi le accendiamo tutti i giorni e ancora non si è rotta insomma quindi certo costano parecchio però hai visto amore è uscita questa con scritto home bella vero vabbè quando si consumerà la love prendiamo la home c'è anche questa con la chiave di violino guarda che bella quanto durerà secondo te spero tanti anni spero tanto perché noi l'abbiamo pagata 14 però l'abbiamo presa a un altro l'eroe marlemma sempre l'eroe si andiamo oddio fa caldo guardate dove siamo che nostalgia vero cameretta qui c'è udri mi manca udri amore quando facciamo che io che io me ne torno qui tutta bella tranquilla e tu te ne stai a casa tua a fare un po' di accrocchi bravo ad accroccare un po' e io qui a fare un po' di cose rosa ci mancano mancano quei tempi in cui ognuno stava a casa sua vedi possiamo sempre si ci vedevamo ma a un certo punto ognuno a casa sua è vero adesso siamo sempre insieme comunque ecco qua un piccolo regalo per voi nostalgia della cameretta postazione gemmina make up mi sto prendendo un po' di vestitini che avevo lasciato qui che sistemate nell'armadio nuovo ecco qua però adesso vi faccio vedere anche qualcuno di speciale allora testina eccola ciao testina ciao che c'è non ti ricordi di me aspetta c'è solo il flash non ti ricordi di me non ti ricordi di me ciao ciao testina quanto tempo quanti anni mi ricordi di me eccola eccoci tornati allora sto preparando il pranzo ho fatto due toast ci ho messo un po' di formaggio e un po' di questa senape che avevamo preso non so se vi ricordate quando siamo andati l'anno scorso ad Amsterdam siamo andati a quei mulini che stanno mi pare come si chiamavano non me lo ricordo e c'era la fabbrica di questo qua Henry Wheeling che faceva il formaggio ma anche varie creme insomma varie senape e avevamo comprato questa senape ai mirtilli rossi che non avevamo ancora aperto perché avevamo quell'altra di Ikea siccome l'altro giorno l'abbiamo finita oggi l'ho aperta e non potete capire quanto è buona sa tantissimo di mirtilli quindi la sto utilizzando per fare questi bei toast ci ho messo il formaggio appunto un po' di senape ora ci andrò a mettere lo speck le pere le noci e un pochino di insalata per dare un po' di freschezza e pensavo di mettere anche qualche mirtillo disidratato questi qua li avevo presi da Lidl così insomma è ancora più buono secondo me verrà buonissimo questa senape è spettacolare eccolo qui guardate che buono com'è amore? ti è piaciuto? buono vero? questa senape è buonissima una nuova puntata di Acrocoman in azione che cosa stai combinando oggi amore? allora dalle ruo a Marlene abbiamo acquistato anche questa zanzariera che io avevo detto a Cesar no no e poi no perché secondo me è proprio brutta attaccata così dopo vorremmo mettere anche quella qui nella finestra però secondo Cesar era meglio fare un doppio strato quindi siccome questa l'abbiamo già trovata subito l'abbiamo iniziata a prendere è un po' più impegnativa quell'altra è quella scorrevole quindi ci vuole un po' di più insomma per metterla un po' di più quindi e quindi stiamo per adesso mettendo questa attaccandola direttamente all'inferriata in modo che possiamo stare con la finestra aperta l'inferriata chiusa e passa il vento vero? quando riesco a inocchiare esatto le zanzarie sono siccome qui c'è la c'è la tenda bianca con la luce qui dentro casa si attaccano lì si attaccano al vetro allora ecco per esempio c'è una luce quindi quando apro quelle entrano esatto quindi vabbè adesso siamo abbiamo comprato il biadesivo e stiamo mettendo questa zanzariera vabbè devo dire che la stai mettendo abbastanza dritta dai sei stato bravo buongiorno Gemmine buon martedì allora ieri a casa mia ho preso qualche altro vestito e anche alcune delle mie borse estive ah qui c'è la mascherina adesso la vado ad appendere all'ingresso quindi oggi sistemerò anche la parte sotto dell'armadio allora la parte centrale è abbastanza ordinata c'è solo una sciarpa vedo che adesso tolgo invece sotto sì da questo lato è abbastanza ordinato invece di qua c'è uno scompartimento con solo sciarpe quindi svuoterò quello e lo riempirò invece con le borsettine estive quindi adesso ci mettiamo insieme a fare questa cosina ecco fatto allora qui ho messo tutte le borse lì dietro anche qualche altro zainetto che adesso metterò in quella parte dietro che è rimasta un po' vuota poi qui vabbè ho lasciato questo cappello che magari può andare bene anche per l'estate perché non è tanto pesante tutti gli altri li ho tolti qui ho alcuni costumi e dietro ci sono tutti i reggiseni e l'ombrello vabbè così a caso e ora sistemo anche di qua dai che c'è un po' di casino allora vi faccio vedere tutto quello che ho acquistato ieri ieri siamo andati da Lidl mi mancava troppo andare da Lidl ero troppo contenta allora qui sul tavolo ho messo tutta la frutta e verdura e la cartigenica che non c'entra niente però vabbè quindi ci sono melanzane banane pomodorini pomodori grandi funghi bianchi funghi portobello cipolline lime fragole lattuga e questa me l'aveva presa mamma all'esse lunga poi ananas cetriolo e zenzero cipolle bianche cipolle rosse e lamponi invece da questa parte avevo messo qui cose di dispensa quindi ho preso di nuovo i nachos che quelli della Lidl mi piacciono tantissimo quindi ne ho presi due per sicurezza poi vabbè ho preso il tonno la salsa di pomodoro mutti le uova il latte anche a lunga conservazione l'ho preso anche fresco però ho preso anche questo così ci dura di più poi zucchero e farina e poi ho preso un po' di fagioli questi in salsa di pomodoro che li usiamo quando faccio la English Breakfast sono buonissimi e costano anche molto di meno perché per esempio da essere lunga hanno messo da un po' di mesi quelli della Ains che sono proprio quelli classici fatti così per la English Breakfast però costano tantissimo invece questi da Lidl sono praticamente identici e costano molto meno quindi se ricercate vi consiglio di andare da Lidl e poi ho preso anche tre belle lattine di questi fagioli rossi normali che invece uso quando facciamo le cose messicane e poi invece qui ci sono un po' di cose da frigo ho preso le piadine il salmone affumicato lo speck poi ho preso il mascarpone perché magari ci scappa qualche dolcetto lo yogurt schier bianco e un altro latte questo invece è fresco e poi mamma mia ha preso anche all'esse lunga un barattolino di agendaz di gelato perché era in offerta al salted caramel buonissimo quindi ce l'ho in freezer e poi una scatola di magnum che anche era in offerta 8 magnum per 3,90 mi pare quindi un ottimo prezzo me li sono messi qui proprio in questo cassettone così appena uno apre può scegliersi un gelatino e invece qui c'è l'agendaz al salted caramel ah mamma tra l'altro all'esse lunga mi aveva preso anche queste che sono le mie patatine preferite che erano in offerta quindi queste ve le segnalo che questa settimana sono in offerta e sono troppo buone come quelle del mcdonald quando fanno qualche edizione limitata fanno queste patatine sono buonissime quindi questa è stata la mia spesina per questa settimana ah mi sono scordata ho preso anche delle zucchine che ho già messo lì l'avocado e il melone e anche un paio di mele allora io ho sistemato tutto il frigorifero l'ho anche pulito perché era un po' sporco adesso mi sto mettendo a preparare il pranzo nel frattempo comunque ho anche pulito il bagno e sistemato la camera e mi sono anche sistemata io allora per pranzo voglio fare tipo un breakfast burrito utilizzerò la piadina che ho preso ieri ne farò solamente metà a testa e così le possiamo usare tre volte perché sono tre piadine e ci metterò dentro la lattuga poi faccio le uova strapazzate alla messicana che si dice così con cipolla tagliata a cubetti pomodoro e peperoncino calapegno poi ci metterò anche due fettine di pancetta e un po' di formaggio adesso per prima cosa faccio la pancetta poi la tiro fuori e butto nella stessa padella le uova e poi dopo metto la piadina la riempio metto il formaggio così si scioglie e alla fine metto la lattuga e poi ci metto anche un po' di ketchup che ci sta benissimo con le uova e poi ci metto anche Grazie a tutti. La mia breakfast piadina è pronta. Antica ricetta siciliana. Cesar si sta bevendo il kinotto che avevamo trovato nella degusta box. Sì, ma non c'entra più in frigo, qualcuno l'ha tirato fuori. Sì, l'ha tirato fuori per berlo. Assaggio in diretta, dai, mi devi dire con me. Guarda questo bel uovetto che esce fuori, uovetto strapazzato. Mmm, un po' complicato forse da mangiare. Com'è? Mmm, buono. Ok, passo e chiudo, buon pranzetto. Stavo aprendo questo pacchettino che mi è arrivato proprio adesso da Lush. Allora, se sono abbastanza attenta al loro Instagram perché li seguo tantissimo, penso di sapere già che cosa contenga questo pacchetto. Immagino che sia uno dei nuovi kit per le mani. E ne ho la conferma qui nella letterina della carissima Maria. Grazie mille. Che sì, è uno dei loro nuovissimi kit mani. Dalla detersione all'idratazione, una routine mani indimenticabile. Un forte e profumato abbraccio, Maria. Grazie. Non vedo adesso di scoprire qual è perché ecco, questi sono i tre nuovissimi kit mani di Lush. C'è il Clean & Calm, il Clean & Fresh e il Clean & Sweet. Adesso lo apriamo insieme così vediamo subito qual è. Intanto è super carina la scatola, sicuramente la conserverò. Wow, è il Clean & Calm. Vediamo un po'. Bisogna aprire qui. Qui spiega cosa c'è nel kit. Vediamo un po'. Wow, che carino che è! Bellissimo! Allora, ci sono due saponi. Vediamo un po' che sono 13 soap unlucky for dirt e poi c'è sleep. Poi ci sono crema mani e cremina per le cuticole, che sono la dream cream e il burro per le cuticole, lemony flutter. E poi c'è questo, che dovrebbe essere un olio da massaggio secco, massaggio alle mani con il siero solido, tiny hands per una coccola in più. Che carino! Yeah, grazie mille Lush. E poi questi cosini a forma di stella sono veramente bellissimi. E niente, quindi trovate questi nuovi kit in negozio, non vedo l'ora di provarli. Tra l'altro neanche a farlo apposta in questi giorni, ho le mani parecchio secche, tutte le cuticole secche. Quindi lo proverò, lo utilizzerò sicuramente per risvegliare un po' le mie mani, che fanno abbastanza schifo. Con tutti i lavoretti che stiamo facendo in questi giorni di quarantena, anche in giardino, quindi fanno un po' schifo, ne avevo proprio bisogno. Grazie mille Lush e grazie mille sia a Maria sia ad Elena. Allora Gemine, io adesso mi metto all'editing di questo vlog e nel frattempo Cesar sta facendo una cosa molto bella qui in giardino. Quindi restate connessi perché nel prossimo vlog vi farò vedere di cosa si tratta, sono molto contenta. E niente, vi mando un bacione giganteschissimo. Grazie mille per averci tenuto compagnia anche per questo vlog e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao Gemine!